Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco. Oggi siamo su Genshin Impact. Ebbene sì, mi sta letteralmente appassionando e mangiando vivo. È un raro caso in cui io mi sia appassionato in questo modo ad un gioco e ne voglia parlare in una maniera più approfondita. Allora, diciamo che un interesse simile si era già sviluppato con Opera Omnia, si è già sviluppato con Opera Omnia, quindi per chi non mi conoscesse vi invito anche a vedere magari le mie rubriche per quanto riguarda anche quest'altro gioco, ovvero Final Fantasy Dissidia Opera Omnia. Mentre invece, se volete una recensione o comunque un video dove ho già parlato delle caratteristiche tecniche del gioco e del sistema di gacha presente all'interno di questo gioco, vi lascio tutti i miei link a disposizione nelle varie schede che vi appariranno durante il video. Oggi invece voglio parlarvi di quelle che sono i meccanismi di base, come iniziare ad affrontare il gioco per il meglio e darvi dei piccoli consigli che secondo me possono in un qualche modo rivelarsi utili. Soprattutto per quei giocatori che stanno iniziando adesso i loro primi passi su Genshin Impact. Facendo un piccolo recap, Genshin Impact è un MMO RPG con meccaniche in stile gacha. Però vi ripeto che se vi interessa di più la meccanica di gacha di questo tipo di gioco vi invito a guardare l'altro video che già ho fatto uscire qualche giorno indietro, qualche giorno fa. Oggi parliamo delle caratteristiche tecniche e soprattutto come muovere i primi passi all'interno del gioco. Innanzitutto la prima cosa da fare è assolutamente raggiungere il rank livello 7. Per iniziare a pullare e per iniziare soprattutto ad ottenere ovviamente i primi personaggi. Una volta ottenuti i primi personaggi si potrà iniziare a giocare nella maniera vera e propria. Il gioco presenta un livello rank che si chiama per l'appunto l'adventure rank che sarà la vostra carta d'identità, quindi la vostra partecipazione all'interno del gioco. Quindi più il vostro rank sarà alto, più ovviamente gli altri giocatori che vi vedranno connessi o che comunque si uniranno alle vostre partite, se glielo permetterete, potranno vedere il vostro tasso di interesse praticamente all'interno del gioco. Detto questo, il rank, ovvero l'adventure rank, sale facendo ovviamente missioni, aprendo forzieri ed esplorando la mappa. La mappa per quanto riguarda il gioco è veramente vasta. Tra l'altro ci sarà a fine mese l'espansione che permetterà lo sblocco di un ulteriore pezzo di mappa che potrà essere esplorata con una nuova città addirittura. Come potete vedere questa è tutta la mappa che praticamente per il momento è disponibile e che può essere esplorata fino ovviamente al raggiungimento del rank 30 più o meno e che vi darà comunque la possibilità di aspettare la patch di fuoriuscita. Per quanto riguarda l'esplorazione ed ovviamente il gameplay non mi sento di dare grossi consigli in quanto penso che ognuno possa tranquillamente avviare una propria esperienza e possa tranquillamente trarre le conclusioni da sé. Per quanto riguarda invece il lato un po' più tecnico del gioco bisogna parlare dei personaggi, di come costruire i team e come fondamentalmente avere meno difficoltà possibile per quanto riguarda ovviamente la gestione della mappa e ovviamente la gestione anche dei nemici. Nel momento in cui avrete pullato i vostri personaggi avrete la possibilità come potete vedere di poterli scegliere e poterli schierare in un team. I team fondamentalmente vengono costruiti e vengono rappresentati da quattro personaggi alla volta. Si ha la possibilità di poter creare diversi team in base ovviamente alle proprie esigenze però il consiglio, uno anzi dei primi consigli che precisamente voglio darvi è quello di organizzare i team in base a quello che dovete fare. Mi spiego meglio. Il gioco di per sé viene strutturato in diversi modi viene strutturato nella modalità co-op dove si potrà giocare con altri giocatori interagendo nella stessa mappa del Lost si potranno effettuare dei dungeon dove alcuni personaggi saranno più utili rispetto agli altri e poi si potrà effettuare ovviamente la storia principale dove ovviamente le quest andranno avanti con il tempo e vi permetteranno anche di aumentare il vostro livello di rank ma soprattutto la parte che a mio avviso è più divertente all'interno del gioco l'esplorazione. L'esplorazione della mappa ovviamente presenta un sacco di vantaggi ovvero il fatto di sconfiggere mostri e quindi fare esperienza per i personaggi fare esperienza di adventure rank e quindi permettere di ottenere diverse ricompense ma soprattutto ci consente anche perché no di esplorare meglio il gioco, le sue meccaniche e per quanto riguarda il mio avviso anche rilassarsi. Per quanto riguarda la costruzione di un team a mio avviso uno dei team migliori che si possa avere per l'esplorazione della mappa contiene un dps che deve essere comunque colui che effettivamente fa danno e che vi permette di poter affrontare le orde di mostri con rapidità due personaggi di supporto che possono aiutarvi o per essere più veloci durante l'esplorazione della mappa o creando dei diversivi per evitare lotte e poi infine un curatore, un healer. Ora il team che vedete davanti non presenta questa caratteristica perché ho fondamentalmente due supporti e due dps ma questo perché comunque i miei personaggi sono di livello un po' più alto e quindi di conseguenza posso gestire meglio i combattimenti ma fondamentalmente se dovessi utilizzare un team del genere sostituirei un personaggio tra Mona che soprattutto grazie al nuovo aggiornamento ha ricevuto un buff che la rende decisamente più forte o Razor che praticamente sono i miei due dps sostituendo uno dei due metterei un curatore. Ora giustamente qualcuno potrebbe dirmi sì Joe ma io non ho curatori all'interno del gioco. Beh diciamo che questa prima parte di Genshin Impact ovvero prima dell'espansione che vi ricordo arriverà all'incirca a fine mese o inizio novembre ci permetterà comunque di ottenere diversi personaggi free to play. Ovviamente i personaggi free to play che otterremo saranno dei quattro stelle ma comunque vi posso garantire che anche i personaggi quattro stelle in questo caso sono davvero davvero eccezionali. Al rank numero 20 avrete la possibilità di ottenere questo personaggio che adesso vi faccio vedere in menu. Questo personaggio ovvero Barbara se riuscirete a raggiungere il rank 20 prima dell'update nuovo vi verrà automaticamente regalato. Questo come personaggio vi posso garantire essere molto valido perché effettua comunque delle cure anche abbastanza elevate se trovate giustamente diverse copie che vi consentono di poterla potenziare qualora voi abbiate pullato all'interno del banner di 20 ma al tempo stesso al rank numero 20 vi verrà regalata. Lei praticamente all'interno del team ha veramente una grandissima utilità. Le cure sono penso un qualcosa di fondamentale soprattutto se non volete utilizzare il cibo. Il mio team poi ovviamente come vi ho detto prima è composto comunque da Razor che è il mio main DPS principale che è il perfetto sostituto per tutti coloro che non possiedono Ok King o Diluc. Io ovviamente non possiedo nessuno dei due quindi di conseguenza Razor è il mio main DPS. Devo ammettere che lui a me piace tantissimo il suo moveset è anche abbastanza rapido per essere tra l'altro un combattente con spada a due mani come potete vedere da questa schermata e secondo me lui è il perfetto sostituto per chi non possiede K-King o Diluc. Tra l'altro lui è di elemento tuono cosa che in un altro video sicuramente vi spiegherò anche perché parlerò degli elementi e diciamo l'interazione degli elementi tra di loro però tendenzialmente l'elemento del tuono per quanto riguarda l'esplorazione in generale non è un granché. Uno degli elementi migliori per quanto riguarda l'esplorazione è senza ombra di dubbio il fuoco infatti Diluc avendo la possibilità di essere un DPS a due mani di elemento fuoco è considerato il DPS più forte presente all'interno del gioco perché possiede l'elemento forte, l'elemento OP ma possiede al tempo stesso anche la meccanica di DPS ed essere soprattutto spadone a due mani raggiungendo comunque delle cifre abbastanza importanti. Il secondo personaggio che utilizzo è Fischel un supporto anch'essa di tipo elettrico che però utilizza arco e frecce. Lei è molto forte per quanto riguarda l'esplorazione in generale sia della mappa che dei dungeon perché possiede la caratteristica di poter spawnare un corvo che praticamente targetta automaticamente i vostri avversari quindi di conseguenza lei vi consente di avere una sorta di diversivo che vi permetterà o di fuggire qualora il combattimento vi risultasse troppo pesante o per darvi una mano creando combinazioni di elementi che vedremo in qualche altro video. Venti che al momento come supporto ma anche utilizzato diciamo in maniera forse un po' come dire un po' azzardata come DPS è veramente un ottimo innesto c'è chi lo definisce addirittura il personaggio più forte del gioco però ovviamente bisogna notare i pro e i contro di qualsiasi personaggio il suo elemento il vento possiede arco e freccia anch'esso viene considerato come supporto però a mio avviso con una build giusta può prendere anche la posizione di DPS Mona che fondamentalmente è un altro DPS lei fa veramente tanti danni elemento acqua che si combina benissimo con il tuono essendo comunque molto affiatati per quanto riguarda il legame elementale riesce lei ad essere un ottimo DPS per quanto riguarda soprattutto gli attacchi AOE quindi di conseguenza vi permette di poter affrontare orde di nemici alla volta vi consente soprattutto di essere molto affabile con le sue skill e con le sue movenze in generale e quindi di conseguenza uniamo utile e dilettevole il protagonista che ovviamente per chi conosce il gioco piccolo spoiler può addirittura possedere un doppio elemento dato che lui può utilizzare l'elemento terra e l'elemento vento è un ottimo personaggio a mio avviso molto sottovalutato però io vi posso garantire che lui come personaggio a mio avviso merita tantissimo al momento non lo metto all'interno del mio team perché avendo Razor lo preferisco al suo contributo ma chi fondamentalmente non possiede tanti personaggi e non ha modo di poter pullare o soprattutto non vuole pullare essendo comunque a breve in uscita la nuova patch può tranquillamente secondo me utilizzare lui soprattutto su PS4 dove vi viene regalata anche la spada che sto utilizzando io o almeno la regalavano alla release quando ho scaricato il gioco che vi consente di essere molto più forti del previsto e poi l'altro personaggio che in questo momento sto utilizzando in sostituzione è Barbara perché come vi ho detto prima un curatore soprattutto per quanto riguarda l'esplorazione della mappa è molto importante nei dungeon può dare un contributo veramente veramente forte dato che comunque vi consente di curarvi ma soprattutto vi consente anche di essere elemento acqua e quindi riuscire in un qualche modo a creare delle combo interessanti soprattutto con i personaggi elettrici e quindi di conseguenza raggiungendo il rank 20 e addirittura averla gratis secondo me è un'altra ottima cosa per quanto riguardano gli altri personaggi gratuiti qui tecnicamente si può ottenere anche Noelle che è un tank barra healer per meglio dire anzi forse tank forse più tank dps in realtà che healer dato che comunque lei possiede la possibilità cioè lei ha la possibilità di poter aumentare l'attacco in base alla difesa quindi diciamo che lei può essere un tank ma al tempo stesso anche un dps si ottiene con le pull scontata che viene offerta all'interno del gioco se ovviamente pullerete lei come personaggio io per i novizi la consiglierei perché non solo un personaggio in più però un tank magari per muovere i primi passi è assolutamente consigliata Amber che si sbloccherà praticamente all'inizio durante praticamente i primi filmati di gioco un personaggio che purtroppo secondo me non è un granché ci sta anche dal fatto che comunque essendo un personaggio gratis chiamiamola così non sia eccezionale però è di elemento fuoco quindi soprattutto come ho detto prima per quanto riguarda l'esplorazione può essere veramente veramente utile per quanto riguarda gli altri invece sono personaggi che ho pullato durante il mio gameplay durante le mie pull ovviamente per cercare di ottenere 20 che poi fortunatamente abbiamo ottenuto e ci sono diversi personaggi di cui ovviamente non voglio parlarvi non tanto per una questione di negligenza ma soprattutto perché non li utilizzo e quindi non voglio comunque dare delle false impressioni se dovessi fare una tier list dei personaggi sicuramente li studierei più nel dettaglio ma per il momento accontentatevi di queste nozioni di base Keia che è un altro personaggio di tipo ghiaccio che potete prendere sempre all'inizio del gioco in maniera totalmente free to play e poi Lisa che è un altro personaggio di elemento di tipo tuono che potrete ottenere gratuitamente quindi diciamo che gratuitamente potrete ottenere diversi tipi di elementi che soprattutto vi saranno utili all'interno dell'esplorazione della mappa sia per quanto riguarda lo sblocco di alcuni dungeon ma soprattutto anche per quanto riguarda diciamo la combinazione di vari elementi non voglio entrare troppo nel dettaglio perché farò video a parte dove tratteremo tutti questi argomenti più nello specifico questo video che sto registrando in questo momento vuole soltanto essere una piccola introduzione a quello che sarà il mio progetto di Genshin Impact quindi l'analisi dei personaggi la valutazione dei personaggi le build che ho costruito interamente per i personaggi e parlare un pochettino per quanto riguarda in generale l'utilizzo e anche magari qualche trucchetto da poter sfruttare all'interno del gioco con le combinazioni di personaggi che ovviamente possiedo io per quanto riguarda il resto non c'è altro da dire i miei consigli fondamentalmente sono quelli di costruirvi un team equilibrato in base soprattutto a quello che dovete fare all'interno del vostro gioco state molto attenti quando salite di rank all'esplorazione della mappa perché i mostri possono sembrare deboli ma con un equipaggiamento debole vi assicuro possono fare davvero male quindi salite di livello cercate assolutamente di pullare qualche cosina anche per ottenere qualche arma in più soprattutto 4 stelle anche se alcune si potranno craftare però per il momento io direi che questi sono i primi passi che secondo me dovete in un qualche modo organizzare all'interno del vostro gioco spero che ovviamente questo video possa esservi utile soprattutto per scegliere come comporre il team come soprattutto cercare di gestire fondamentalmente i vostri personaggi e per il momento io vi ringrazio spero ovviamente di aver in un qualche modo risposto ad alcune delle domande dei giocatori iniziali per tutto il resto ci sono gli altri video che potete guardare e quindi per il momento io vi ringrazio e ci becchiamo alla prossima